se non ci sono prego grazie presidente anch'io un attimo prima della dichiarazione di voto vorrei sottolineare una cosa io non ho mai parlato di passività della farmacia di Villanova ho soltanto detto che in base alle aspettative non funzionano come dovrebbe come ci saremmo aspettati soprattutto perché stiamo dando un servizio a pernato non a ribergati quindi ho anche sottolineato che nello spirito di continuare a dare servizio al cittadino, cosa che potremmo dare ancora meglio qualora ci fossero dei utili maggiori perché con un utile maggiore si può anche decidere di incrementare e implementare determinati servizi logico, se ti trovi di 300 mila euro a fine anno dovrai pagare le tasse dovrai darne un terzo al comune e dovrai investire ancora da qualche altra parte però se sai che stai guadagnando puoi anche pensare di spenderli verso il cittadino che non è la diversa detto questo noi diamo un parere favorevole come abbiamo sempre fatto sul bilancio della farmacia perché collaboriamo attivamente nella così amministrazione come abbiamo sempre fatto dando spunti, idee e proposte che molto spesso sono state anche ascoltate quindi hanno dato l'erogico che l'anno prossimo appunto si rimetterà in discussione in base anche alle considerazioni che ho fatto per ora fare il favorevole grazie grazie consigliere mi sono approcciata con molta inconvenienza al documento che c'è stato fornito per valutare il bilancio dell'azienda delle famiglie comunali e con difficoltà ho cercato di interpretare le varie colonne e le varie righe perché la mia formazione non mi fornisce questa preparazione così da una ricordata allora ho provato ho chiesto precisazioni a chi avrebbe potuto darnele e ho cercato di distinguere quello che è l'aspetto economico l'utile dall'aspetto, dallo scopo prioritario di questa azienda che secondo me ha il suo utile maggiore nella situazione dell'efficienza e questo io non sono in grado di valutare forse in un ambito di commissione potremmo cogliere i suggerimenti che i consiglieri hanno offerto adesso con l'efficienza a cogliere le indicazioni di chi è intervenuto prima e dare un mandato al prossimo consiglio di amministrazione e di intervoto di questi studi e una cosa però rilevato che ho sentito con la mani di collaborazione che effettivamente sono attività da promuovere se non altro nell'informazione delle persone che mi assicuro non sono radicalmente informati sui servizi che queste farmacie offrono per cui potrebbe essere uno scopo da perseguire a di là dell'aspetto amministrativo o di considerazione del servizio sociale ma anche di promozione proprio perché venga promosso e volto a pieno questa opportunità per cui personalmente estremo un punto favorevole che parte in modo costruttivo per cogliere i suggerimenti iniziali grazie consigliere Foa prego consigliere Sardini si accolgo a quelle che sono state le sollecitazioni alle parti venute all'entrare nel merito di quella che è la motivazione e in questo leggo nel bilancio un effetto di un effetto positivo perché sono sia esercizi sia le casse del comune rispetto ad un grande volume di valori che sono stati scambiati quindi per oltre 3 milioni e mezzo di attivo le passività poi lasciano sul campo utile al punto di poco meno di 10 milioni voglio leggere questo dato come un dato di un esercizio per cui non si va ad estrarre un utile da quello che è un concorso rispettivo una spesa per la cittadinanza sul territorio rispetto ad un evento triste in quale normalmente è stato dell'arquisto delle fedicine piuttosto che comunque dei momenti della vita in cui è difficile fare meno di ricorrere a questi mesi per non restando tutti quei prodotti invece che sono poi parte di momenti anche felici che vanno sostenendo sto pensando alla possibilità di vendere sul mercato valori e prezze regolari che non sono legati necessariamente alla malattia quindi in questo modo voglio leggere una indicazione e un'esecuzione dell'attività pesa a non passatevi in termine spremere soldi dalla cittadinanza rispetto a un servizio del Consiglio Basilico certo bisogna prestare attenzione perché il risultato può ovviamente nascondere delle insidie quali sono state qui citate che andranno a controllare e potrebbe quindi essere invece un risultato che è dovuto a delle inefficienze o comunque a degli aspetti da corregge in questo senso il voto del mio gruppo sarà chi lo volevo di deprovazione e lo spirito è quello di poter entrare nel merito di queste comunicazioni per poter migliorare il servizio sempre più per agito quindi avere un attivo sempre maggiore dal punto di vista della soddisfazione della cittadinanza stando sempre attenti comunque per parlare su passione ma visto che quello che è stato che è citato nella conferenza sta a fare la parte che si traccia di me grazie grazie consigliere Sampini ecco il consigliere Beretta grazie in un contesto dalleggiato ovunque senza costi in un contesto di libero mercato questo secondo me è significativo e il fatto che questa l'erogazione di vostro servizio venga estesa a un altro comune come il Soprenato non è per me un altro negativo anzi è un onore per il nostro comune quindi grazie consigliere e consigliere Alessandro grazie io rivedo alcune cose la prima che penso che ci sono le obiettute che è tra le cellule di mercate faccio un servizio che è molto apprezzato dalla gente e dalla popolazione e non ci sono mani di tele da questo punto di vista è un servizio stop e è sempre stato un servizio di alta qualità il servizio della cittura la domenica della farmacia di Ucinello è stato fatto è stato un grande successo è stato un grande successo a volte vado anch'io la domenica mattina la farmacia spesso viene in atto cioè c'è tantissima gente tanto la domenica che la farmacia e rilevo che l'apertura del punto vendita di Villanova è stato un successo perché c'è di fatto è stata fatta un'operazione di apertura di un terzo spesso senza avere un impatto negativo diciamo sul bilancio della azienda farmacea che fa il suo complesso per cui c'è stata di fatto un'espansione dell'offerta dell'azienda farmacie senza senza l'impatto ma in quel tempo diciamo ci sarà anche una città che si parla di grande di un'esercito rispetto ai culturali si tenga presente che la farmacia ha anche gestito un'acquisizione di alcuni locali di Ucinello dal comune con costi che sono associati all'acquisizione di questi locali l'acquisizione di questi locali dove operano anche i medici dove abbiamo sottotitoli di servizi ambulatoriali rappresentano comunque un altro servizio che l'azienda farmaceutica lo c'è nei confronti della cittadinanza poi come già detto da alcuni con l'assediamento del nuovo consiglio di amministrazione evidentemente le cose potranno migliorare ancora si potranno fare delle proposte si portano molto davanti delle iniziative mi sembra che comunque al momento attuale la situazione possa essere considerata a tutti riguardisco sia la politica francese che voto a fare del mondo grazie grazie signor passante ci sono più di voto mette in votazione 4.2 all'ordine del giorno approvazione del bilancio costruttivo dell'azienda speciale farmaceutica comunale in meracartesi anno 2010 che favorevoli alzi la mano ci si stiene 3.2 il risultato dell'ordine del giorno è approvato con 14 voti a favore e 3 astenti stiamo ora in discussione del punto 3 no domani del giorno la tipica delle deliberazioni giunta comunale numero 157 del 19 agosto di 2011 a 20 agosto parazione di urgenza della giunta comunale a un viaggio di previsione del 2011 e nell'antica legata parazione a tempi e precedenti do la parola a regalatore se possibile si la variazione o meglio la delibera di giunta che portiamo in pratica quest'oggi come trovavo il rispetto alla deliberazione del luglio scorso del 19 luglio è la variazione con la quale ha introdotto nel bilancio sostanzialmente quei capitoli di entrate di uscita atti a raccogliere alcuni finanziamenti pervenuti su particolare tre progetti uno riguardante il parco di ritorno della cavallera con il quale è stato percepito un finanziamento da parte di provincia di Monzebrianza per attività inerente al parco di ritorno della cavallera un altro invece riguardante il capitolo riguardante il distretto culturale evoluto con il quale vanno a finanziarsi la realizzazione di alcune attività tra le quali il catalogo del NUSP che è una parte del progetto relativo e un altro intervento riguardante invece attività culturali nell'ambito della biblioteca per raggiungi servizi nei confronti nei confronti di fasce in particolare della popolazione i capitoli portano ecco ho trovato variazioni che gli importi sono questi per quanto riguarda funzioni importanti della gestione del territorio dell'ambiente sono una maggiore entrata per una maggiore spesa a cui corrisponde l'analoga entrata per 21.565 euro per quanto riguarda le funzioni relative alla cultura e ai beni culturali 45.750 euro il finanziamento riguardante invece il scusate il parco agricolo della cavallera per 19.850 euro questi sono i capitoli più significativi che sono stati interessati per la nostra variazione di un'analoga di un'analoga per la nostra variazione Grazie a tutti.